buongiorno e benvenuti a seconda puntata di ci sport on air oggi abbiamo con noi uno dei più grandi giocatori che abbiano mai solcato il campo dell'artemio franchi ex bandiera fiorentina e golden food 2010 giancarlo antonioni buongiorno giorno allora cosa ne pensa il torneo delle nazioni bel torneo organizzato molto bene dove si vedono ci speriamo gli eventuali campioni del domani delle nazionali giovanili molto interessanti le novità oggi c'è l'america i cileni che poi vedremo all'opera e si vedono che hanno dei giocatori diciamo bravi validi questa è ancora un'età dove adolescenziale dove si deve ancora crescere un pochino però già le caratteristiche di qualche giocatore si vede c'è un po come i cambi come adesso ti pensi a raui oppure i vecchi come raul che sono stati scoperti questo torneo se diciamo un torneo che ormai tanti anni che viene fatto non solo per le nazionali ma anche per le squadre di club dove ci sono squadre importanti a livello mondiale mentre le nazionali bene o male ogni tanto sfornano qualche giocatore importante e sharawi diciamo il prototipo del giocatore moderno uscito proprio qui da gradisca quindi speriamo che in seguito ne escano altri che ricordo ha di nareo rocco a io positivo perché l'ho anche avuto come allenatore nel 73 ormai sono 40 anni passati sono tanti però di una persona forse di altri tempi un allenatore di altri tempi che si è espresso a grandi livelli con il milan prima con il padova all'inizio poi dopo con il milan poi alla fine è venuto anche alla fiorentina dove dove ha fatto bene chiaramente è un calcio un po diverso da quello attuale però diciamo un uomo che ha fatto del calcio la vera professione nel senso che lo prendeva a volte anche come scherzo cosa che oggi così è un po inammissibile scherzava molto in campo scherzava molto con i con i giocatori scherzava molto in campo scherzava molto con la gente quindi un allenatore un po di altri tempi però con la mentalità giusta mentalità vincenti e come vede lei il calcio di adesso rispetto a quello che giocava lei ma come ha detto prima un calcio un po diverso dove forse la tattica oggi prevale più sul sull'aspetto tecnico e quindi vediamo a volte delle partite non molto belle da vedere però tatticamente giocate molto bene quindi al limite anche uno 0 a 0 oggi può dare una buona visione un buon spettacolo mentre ai tempi nostri forse uno 0 a 0 non era molto piacevole da vedere e che cosa ne pensa la fiorentina di adesso e secondo lei cosa le manca per arrivare in champions verso una squadra da champions ma è quest'anno la fiorentina ha cambiato molto e sta ottenendo dei buoni risultati ad oggi per il per il prossimo futuro per arrivare a certe diciamo a certi obiettivi deve inserire qualche giocatore importante anche se ne ha molti nella propria rosa per arrivare in champions manca forse un gol e ad or che possa fare garantire quei 20 25 gol che però devo dire che a livello gol fanno un po gol tutti quindi non c'è un giocatore singolo che riesce a fare 20 25 gol però ci sono altri giocatori che possono fare gol in qualsiasi momento quindi diciamo una squadra costituita sul possesso di palla la vera realtà e poi in fase conclusiva ci sono giocatori che con i centrocampisti si inseriscono molto bene ecco quindi le caratteristiche di questa fiorentina sono queste si spera in gli aici che la nuova scoperta del calcio da fiorentina si anno scorso ha giocato poco quest'anno invece partito quasi sempre titolare ha fatto molti gol è un giocatore che si è espresso forse quest'anno gli altri anni non si è espresso ai livelli abituali però penso sia oggi la forse una delle sorprese proprio di questa fiorentina le piace lavorare accanto i giovani si ritorna giovani anche noi vuol dire che si tuffo nel passato passato molto remoto di 40 anni fa un po quando uno inizia a giocare vede intravede in questi giovani la possibilità di avere successo in seguito sicuramente i giovani di oggi hanno dei vantaggi nei confronti nostri sono in con questa tecnologia che c'è oggi sono un po' totalmente diversi da noi noi eravamo un po più diciamo meno eruditi dal punto di vista anche mentale e oggi i ragazzi fanno del computer la cosa della cosa primaria la cosa principale dell'iphone e quindi ai tempi nostri non si poteva pensare una cosa del genere e di conseguenza sono più aggiornati su tutto adesso un'ultima domanda così un po per buttarla sul ridere quale sarebbe la sua formazione ideale di in generale anche giocatori vecchi e nuovi un misto dai e vabbè ho visto diciamo in questi circa 40 anni di carriera prima da giocatore poi da dirigente forse i migliori giocatori del mondo quindi per me è facile fare una formazione iniziando dal portiere e poi proseguendo chiaramente in questi 40 anni ho intravisto i migliori giocatori del mondo e soprattutto in fase offensiva potrei fare una formazione molto importante ma devo farlo o no si dai un paio di nomi così al portamento soft perché grande dino soft perché ha vinto il mondiale con me potrei mettere quella di mondiale 82 però poi sono troppo tradizionalista metto altri giocatori che hanno fatto parte un po della storia del calcio a destra mettiamo a sinistra roberto carlos i due centrali metto vediamo beckenbauer dei miei tempi un centrale l'altro metto viercut perché è un giocatore eccezionale che ha giocato anche nella fiorentina a destra mi manca un difensore un laterale destro diciamo chi posso mettere caffù metto un brasiliano caffù poi a centrocampo talmente tante possibilità metto pirlo perché è un giocatore attuale davanti alla difesa poi in mezzo metto vabbè platini maradona un po più avanti a destra come centrocampista di destra metto posso mettere e punte vabbè le due punte intanto battistuta poi messi a sinistra vabbè diciamo il tornante destro mi manca metto giuligno della fiorentina che te non conosci però lo conosco io e poi credo che abbia fatto una formazione molto offensiva però con nomi straordinari una formazione molto abbastanza fortina devo dire bene ringraziamo antonioni per la sua collaborazione ed aici sportoneira è tutto arrivederci grazie ciao ciao